Ciao popolo del web, come va? Vi state divertendo? Vi state disperando? Affrettatevi ad andare un po' in vacanza se ce la fate perché è fino agosto e l'estate se ne va via e ci vado anche in vacanza. Si fa per dire perché lavoreremo per voi anche lì, infatti il compagno che sbaglia invaderà la Polonia, non come un film della seconda guerra mondiale, non come Rocco Sifredi, magari, però saremo ospiti di un centro artistico teatrale in Polonia a Brodslav, che in italiano si traduce Bereslavia, insomma. E insomma, ne vedrete delle belle. E devo darvi alcuna anticipazione perché a settembre poi ripartirà la fantomatica nuova stagione, vi dico qualche titolo così per accattivarvi un po'. Insomma, 2020, così vedremo artisticamente come vivremo fra qualche anno, donne che odiano gli uomini, un bacino alle femministe contemporanee, tanti bacini, e un'intervista a un importante guru che è il nipote di Osho, noto guru famosissimo che nell'era occidentale sta spopolando tantissimo. E quindi, mi raccomando, seguitici. Volevo ringraziarvi veramente perché stiamo crescendo sempre di più. Un applauso! Grazie, grazie, infatti anche l'ultimo video, il video che ha commosso il web dell'uomo che guarda il video che ha commosso il web, sta raggiungendo quasi, probabilmente supererà le 400 visualizzazioni in tre giorni. E considerando che siamo partiti da neanche un mese, è un successone. Quindi grazie, grazie di tutto. Mi raccomando, buone vacanze. Mi raccomando, non disperatevi troppo se non andate in vacanza. Pensate alle cose piccole della vita che comunque ci si accontenta, via su. Oh, io vado, eh. Ciao a proposito del web. Ciao ciao!